I rappresentanti del sindacato Nursind hanno chiesto all'ASP Nissena di avviare l'iter per la stabilizzazione dei precari. Attualmente sono 450 i componenti del personale in attesa dell'assunzione. Per il sindacato, infatti, le assunzioni a tempo indeterminato rivestono un'importanza vitale per rispondere all'esigenza di personale nelle strutture sanitarie. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato che le ASP di Messina, Grigente e Siracusa hanno già avviato le procedure di assunzione, a differenza di quella Nissena. Giuseppe Provincano Sanzano, segretario provinciale del Nursind, ha affermato che la nuova normativa nazionale consente, a partire dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2023, di assumere a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori soggiosanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato alla data del 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio anche non continuativo e di cui almeno 6 mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Per Provincano andrebbero così premiati quei lavoratori che il sindacato ha definito eroi che hanno lavorato nel periodo più duro legato all'emergenza da Covid-19.